Quindi sei un'agente e sei proprio una piccola scimmia coraggiosa, hai degli occhi molto aguzzi. Comunque, immagino che abbiamo riportato il mondo indietro dall'orlo del disastro e tutto è stato grazie a te. Wow, caspita, grazie a proposito, non ci siamo ancora presentati, sono serpente, puoi chiamarmi così d'ora in poi. E tu, Kukyu, interessante, un paio di serpenti, piacere di conoscerti serpente, penso che andremo d'accordo. Ok, sto andando a casa del colonnello Campbell, per riferire sulla missione, cosa farai adesso? Va bene, 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 va bene. È giusto? Beh, immagino che sia così. Probabilmente ci incontreremo di nuovo da qualche parte. Ci, per me dice... Cioè, ci, per me dice...